La musica è una festa di un hotel di un barmello di arti. L'idea era striccosa, però era un professore che non ci faceva tutti i moduli, non era sempre un'altra cosa per contare. Questo ha fatto ciò che questo spinto oggi non conoscevamo sempre che si tratta di questi problemi. Questo spinto lo fanno, è nemmodo, è un'altra, è un'altra, si mangia un'altra, inizia a casa. Grazie, grazie. Se l'avessi venuta un calco di diffuso, un calco profumo è sempre il minuto successivo. E' una venirella per tutti i suoi inizi, in quanto diverso a me. Ointanto ho questa mostra con su un mare innovativa, c'è stato qui a Pilata, ma si è voluto il cuore. E' molto particolare quello che noi affettiamo oggi a Leonardo. Sì, nella nostra mostra è più di Alistri, ma non ci conosceva anche se l'opera è la stessa mostra. Però sulle macchine, come ad esempio l'opera, le azioni di produttore, 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 le azioni di produttore. Vi ringraziamo innanzitutto per questa opportunità. Grazie.